Perché entrare nella Guardia di Finanza oggi? Entrare nella Guardia di Finanza è comunque entrare nelle istituzioni dello Stato e scegliere di fare un percorso di vita che sicuramente non sarà privo di sacrifici e di ostacoli ma sicuramente è una vita gratificante, stimolante, è una vita che si apre a 360 gradi per il bene della collettività. Un'occasione da prendere al volo, un concorso pubblico per titolo ed esami per l'ammissione di 1.230 allievi marescelli al 95esimo corso presso la Scuola Ispettore e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l'anno accademico 2023-2024. Un concorso dei posti suddivisi tra il contingente ordinario e il contingente di mare e in più anche una liquoda riservata a quei familiari delle vittime del dovere otto posti per ricordare proprio chi si è immolato e chi nel corso del proprio servizio addirittura ha speso la propria vita per l'amministrazione. Un concorso che ha dei requisiti per accedere, ovvero il compimento del 17esimo anno di età sino al 26esimo anno di età non compiuto al momento della presentazione della domanda. È possibile verificare tutti i requisiti e leggere il bando di concorso direttamente sul sito internet, sul sito www.gdf.gov.it dove è possibile scaricare il bando di concorso e presentare tra l'altro la domanda telematica di presentazione al concorso. Quando scadrà la presentazione delle domande? La domanda scadrà il 23 prossimo del mese di marzo e quindi è necessario compilare entro quella data di scadenza la domanda attraverso il sito telematico, quindi il portale del corpo. Grazie a tutti.